Dobbiamo lavorare per questo obiettivo, cercare di fare sempre meglio per migliorare la posizione in classifica anche perché se riusciamo poi a recuperare tutti i ragazzi abbiamo possibilità di poterlo fare. Ragazzi pronti, si sono fatti trovare pronti, hanno fatto bene in queste partite. Adesso bisogna chiudere bene la settimana cercando di fare un altro risultato positivo, un campo difficile con una squadra molto aggressiva, molto intensa, una squadra che ha delle qualità soprattutto in avanti. Quindi dobbiamo cercare di chiudere bene questa settimana che è stata già positiva.